Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura andiamo a Jesolo, ricorderete sicuramente il caso dello stupro in spiaggia con una ragazzina di Trieste finita nelle grinfie di un cittadino straniero. Quell'uomo che è stato poi condannato e al quale il comune di Jesolo aveva chiesto un risarcimento da anni. Quel risarcimento stesso che il comune ha deciso poi di non chiedere più di fatto con un dietro fronte perché? Perché l'uomo non possiede nulla. Il servizio di apertura del nostro telegiornale. Nei giorni immediatamente successivi a quella violenza la risposta del comune era stata di ferma condanna. Per questo, dopo una discussione tra i banchi del Consiglio Comunale, il sindaco Valerio Zoggia aveva annunciato la volontà dell'ente di costituirsi parte civile nel processo avviato nei confronti di Mohamed Gayet. Lui è il senegalese 25enne finito sotto accusa per lo stupro di una 15enne violentata nella spiaggia di Jesolo nelle prime ore del 23 agosto 2018. Ma a poco più di un anno da quella terribile vicenda, il comune ha dovuto revocare la propria decisione perché difficilmente il cittadino straniero potrà pagare l'eventuale risarcimento. Il 25enne era stato arrestato a poco più di un giorno di distanza da quell'episodio in un ostello di mestre dalla squadra mobile di Venezia. Sottoposto al processo con rito abbreviato, come la sua richiesta, il senegalese lo scorso agosto è stato condannato a tre anni e quattro mesi. Nello stesso procedimento il comune si era costituito come parte civile e per questo il tribunale aveva condannato l'uomo anche a risarcire le spese legali al comune per un valore di 3.000 euro. E sempre il giudice aveva riconosciuto il diritto al comune di richiedere il risarcimento dei danni di immagine, ma in serie civile e con un procedimento distinto, una scelta che l'ente voleva avviare soprattutto per dimostrare la propria vicinanza alla vittima, ma che nei giorni scorsi è stata ufficialmente accantonata. Dopo una serie di valutazioni con il proprio legale, l'avvocato Massimo Ferrazzo, l'amministrazione ha infatti rinunciato alla possibilità di chiedere un risarcimento. Una decisione ufficializzata con tanto di delibera di giunta approvata lo scorso 29 ottobre. Alla base di questa scelta, una serie di motivazioni, soprattutto di opportunità, in particolare lo stesso legale del comune, come si legge nella delibera, dopo il giudizio penale, ha evidenziato una serie di perplessità sulla convenienza per il comune di intraprendere un'azione legale per ottenere un risarcimento del danno di immagine, in quanto già nel processo penale era emerso che l'imputato non avrebbe rimborsato le spese legali, visto che non ha un lavoro e non pensiede bene mobili e immobili. Per questo, considerando che l'avvio di una spesa legale per il risarcimento del danno comporterebbe una spesa di oltre 6.000 euro, come da tarifario approvato da un decreto ministeriale, la giunta ha deciso di non avviare alcuna azione legale in serie civile. Di fatto, una scelta attuata anche per tutelare lo stesso ente, visto che nella delibera è stato indicato che una scelta diversa, visti i presupposti, sarebbe potenzialmente produttiva di danno erariale in quanto palesemente antieconomica. L'auto è volata in aria, carambolando su se stessa, poi esplosa in mille pezzi. Nello schianto impressionante di ieri sera è deceduto Mario Piccolo, 87 anni, di summaga di Portogruaro, mentre un amico, Natalino Vignando, compaesano e un giovane di Pre Maggiore, sono rimasti gravemente feriti. Il tragico incidente si è verificato sulla strada regionale Postumia, che collega Portogruaro a Treviso, all'altezza dell'incrocio con la via Mezzatorre d'Alvea a Pradipozzo. Un incrocio maledetto, che lo scorso 2 marzo era costato la vita all'ottantenne Gino Araghini. E come allora, erano da poco passate le 18, e come allora una coppia di amici stava per uscire da via Fornace per rimettersi sulla regionale 53. I due erano a bordo di una Ford Fusion, guidava Vignando. Sulla 53 stava invece arrivando un Audi A1 con il giovane che si dirigeva verso Pramaggiore. È stato impressionante, hanno spiegato alcuni testimoni. La Ford stava per uscire dall'incrocio. Quando è arrivata l'Audi, l'utilitaria è volata in aria, finendo sull'asfalto dall'altra parte dell'incrocio. Subito abbiamo chiamato i soccorsi, spiegando che c'erano due persone incastrate in una vettura capavolta. Al suo corretore non è servito molto tempo per capire dove fosse accaduto l'incidente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari di Portogruaro, con i carabinieri della radiomobile e i colleghi della stazione. Riuscire a liberare la coppia di amici bloccati nell'abitacolo distrutto è stata un'impresa ardua. Più in là c'era il giovane che si lamentava. Per lui e per Vignando è arrivata un'ambulanza che li ha trasferiti in codice rosso all'ospedale di Portogruaro. I primi esami avrebbero evidenziati seri traumi. Natalino Vignando è stato ricoverato con una prognosi riservata, ancora da sciogliere la prognosi per l'altro paziente, il 24enne di pramaggiore. Purtroppo per Mario Piccolo non c'è stato niente da fare. I pompieri l'hanno estratto, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'87enne probabilmente non si è nemmeno accorto di quanto stava accadendo. Ora i carabinieri stanno indagando per accertare cause e responsabilità. Anche se all'origine pare ci sia la mancata precedenza, dovrà comunque essere vagliata anche la velocità dell'Audi, in un tratto in cui il limite è di 50 km orari. La postumia è rimasta chiusa fino a tardi per operazioni di soccorso e rilievi. E ora andiamo a Venezia che abbiamo decisamente pagina per parlare di ristrutturazioni delle nostre abitazioni. Un'opportunità non da poco se non altro anche per risparmiare. Lo spiega uno stesso economista della Puppa, sentito da Aldo Curtarelli. Siamo in compagnia di Federico Dalla Puppa, lei è un economista. Siamo a Marghera, in un convegno organizzato dalla Confartigianato Imprese della città metropolitana di Venezia, dove si parla di ristrutturare e risparmiare. Lei è un economista, può spiegare alla signora Maria, che ci sta ascoltando, che magari ha qualche soldino messo via, come può spendere per poi recuperarlo? Allora, diciamo che in linea generale la cosa interessante oggi è che investire i soldi nei muri di casa propria è forse l'investimento migliore che si può fare. In che modo? Pensando a riqualificare, a rigenerare dal punto di vista energetico, anche strutturale, proprio le abitazioni, gli alloggi e gli edifici. Strutturare dal punto di vista energetico significa soprattutto fare investimenti, cioè spendere dei soldi, ma avere un immediato beneficio economico, non solo di benessere, perché si riducono i consumi energetici, eccetera. Il beneficio economico è quello dato dalla riduzione dei costi in bolletta. Oggi con un intervento che mediamente può costare 4, 5, 600, nei casi più impegnativi, anche 600 euro al metro quadro e quindi può costare anche molto, però in realtà si riescono a ridurre i consumi energetici dell'80-90%. Significa che la bolletta media che la signora Maria paga ogni mese tra energie elettriche e consumi da 150 euro diventa 15 euro. Significa che quei soldi risparmiati sono proprio quei soldi che vanno a ripagare l'intervento. Mediamente negli studi che abbiamo fatto, nell'arco di 10 anni, si recuperano complessivamente tutti i costi di intervento. E quindi io faccio sempre un esempio. Se noi avessimo un gruzzoletto da mettere da parte e dicessimo dove investiamo questi soldi perché perlomeno non perdano il loro valore e mi garantiscano un minimo di remuneratività. Oggi la cosa più sicura, più certa è prendere e comprare i titoli dello Stato. Il titolo dello Stato è l'ultima asta di qualche giorno fa, ce li hanno dati nel lungo periodo al 2% lordo. Significa che noi mettiamo 10.000 euro lì, ci daranno tra 30 anni il 2% lordo però, cioè quindi dovrò anche pagarci sopra le tasse. Se noi prendiamo quei 10.000 euro e li mettiamo nei muri di casa nostra, ad esempio mettendo impianti fotovoltaici, facendo il cappotto, cambiando le finestre, eccetera, io con i benefici fiscali e la riduzione dei costi energetici alla fine dei miei 30 anni ho guadagnato il 13%. Allora la domanda è alla signora Maria, ma se tu hai un po' di soldi da parte e vuoi che questi soldi mantengono il loro valore, preferisci il 2% o il 13%? Credo che la risposta venga da sola. Ecco, speriamo che questo messaggio venga raggiunto da moltissimi che hanno questa intenzione di fare queste ristrutturazioni perché meritano, noi vediamo degli esempi ogni giorno di ristrutturazioni fatte da professionisti veramente bravi e per cui magari questo messaggio speriamo sia utile. Speriamo proprio di sì, l'obiettivo anche della giornata di oggi è quello proprio di evidenziare dei casi reali, delle cose vere che si stanno facendo, potrebbe sembrare che nei condomini sia difficile farlo, queste cose qua invece non è difficile, servono però bravi amministratori condominali, bravi tecnici, professionisti e il tema importante è capire che queste azioni non sono più azioni dove c'è da una parte qualcuno che fa e da un'altra parte qualcuno che compra, sono scelte che si fanno assieme ai clienti per cui la signora Maria deciderà assieme ai tecnici e assieme agli altri soggetti cosa fare e come fare per portare a casa il risultato migliore, vivere meglio in un ambiente più sano, respirando aria migliore perché dentro le nostre case spesso l'aria è più malsana, le muffe che abbiamo nelle nostre case e alla fine le respiriamo e poi pensiamo che l'asma ci arrivi da qualche altra parte ma invece la prendiamo in casa nostra e quindi migliorare tutte queste cose qua attraverso scelte che si fanno assieme, quindi al cliente, assieme al fornitore, all'impresario, agli amministratori e ai tecnici stessi che sceglie le soluzioni più adatte, valutando anche poi il beneficio dal punto di vista economico e quindi delle proprie tasche e quindi diciamo in questo senso che oggi dobbiamo guardare all'edilizia del futuro non pensando a nuove costruzioni ma riqualificando ciò che già abbiamo, ridando valore a quello che è già nostro. E ora andiamo a Porto Uruaro in vista della fine del mese con la fiera di Sant'Andrea si scopre che ritorna anche il gioco dell'oca. La fiera di Sant'Andrea prende forma, lavori a pieno ritmo per organizzare l'antica sagra delle oche e degli stivali giunta quest'anno alla 34esima edizione. La Kermess si aprirà domenica 24 novembre con la giornata dedicata alle associazioni e ai bambini e proseguirà sabato 30 e domenica 1 dicembre con la classica fiera mercato. Non cambierà l'impianto organizzativo dello scorso anno che ha portato in centro oltre 400 espositori. Nonostante le voci che indicavano il possibile trasferimento dell'Uno Park nell'area a parcheggio vicino dall'ex per fosfati, la amministrazione ha confermato l'allestimento delle giostre in piazza Castello. L'inaugurazione avverrà sabato 30 novembre, non la mattina come la tradizione ma il pomeriggio. Alla mattina Borgo San Giovanni è infatti riservata la cerimonia religiosa per il patrono di Porto Gruaro, Sant'Andrea. Tra le novità anche la riproposizione dopo molti anni del gioco dell'oca in piazza della Repubblica che coinvolgerà, grazie al lavoro della Pro, cittadini di tutte le frazioni di Porto Gruaro. Il parco della pace sarà destinato al mondo dei cani con un rafforzamento delle attività e proposte nel 2018. Siamo soddisfatti di come la fiera sia cresciuta in questi ultimi cinque anni, ha ribadito l'assessore alle attività produttive Luigi Geronazzo. L'amministrazione è riuscita a trasformare quello che era un semplice mercato in una fiera importante con spazi dedicati ai vari settori, come quelli ricavati in via Cavuro e sui motori. Abbiamo aperto un ufficio fiera, collocato al piano terra della vila comunale, aperto dall'unedì a venerdì dalle 9 alle 12, lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 17, che ha fatto e sta facendo un buon lavoro, iniziando dalla catalogazione degli espositori. E anche quest'anno la gestione è stata affidata alla Confartigianato Servizi, che ha collaborato con l'amministrazione anche alla definizione del programma. Proprio a cura di Confartigianato, sabato 23 novembre, al mattino, si svolgerà in municipio un confronto con le categorie economiche sul centro storico. In quell'occasione, ha spiegato il presidente di Confartigianato Veneto Orientale, Siro Martina, presenteremo la nostra indagine sulla vita all'interno delle mura storiche di Porto Gruaro, sull'andamento demografico della città e del mandamento e delle attività. Un focus verrà dedicato anche alle attività proposte in centro e alla stessa fiera. Non vogliamo un incontro a senso unico, ma un confronto da cui si possa uscire con proposte concrete. A Uderzo, invece, il patto per il turismo. I 14 comuni dell'Opitergino-Mottense decidono di fare squadra e proprio per il Natale si presenteranno in chiave turistica. Sentiamo che cosa hanno ribadito. Eventi natalizi condivisi nell'Opitergino-Mottense. Si parte proprio dal Natale per dire che la promozione turistica e più in generale l'attrattività di un territorio non può essere attuata per compartimenti stagni. Che i campanili, seppur simpatici sul piano del folklore, vanno superati quando si tratta di programmare e promuovere? I sindaci del Comune dell'Ipa, intesa programmatica d'aria dell'Opitergino-Mottense, saranno in piazza a Motta venerdì 15 alle 19 per inaugurare tutti assieme le festività natalizie, annuncia Maria Scardellato, sindaca di Uderzo, nonché presidente dell'Ipa. Iniziamo dal Natale con un gesto simbolico per dimostrare la volontà di iniziare un percorso di unione e collaborazione tra i comuni che possa aumentare l'attrattività del nostro territorio, fornendo a chi lo vuole conoscere e visitare opportunità di svago e offerte culturali e turistiche sempre più ampie e diversificate. La sindaca fa da portavoce ad un annuncio che è stato condiviso con tutti i 14 colleghi sindaci dell'Ipa. L'organismo è nato sulle ceneri di quello che era il Consorzio dei Comuni Opitergino-Mottense, uno dei pochi consorsi nati nell'ambito della legge sui comprensori che in Italia funzionò. Dato che fu grazie al Consorzio dei Comuni se dal governo arrivarono i fondi per realizzare la circonvalazione nord-ovest, erano gli anni 90 del secolo scorso, soppressi i consorzi e al loro posto è arrivata l'Ipa. La volontà dei sindaci è sempre stata quella di agire in modo snello, da una parte per riuscire ad acciuffare contributi e si riesce ad aggiudicarsi i bandi se più comuni partecipano in forma congiunta, dall'altra appunto per promuovere il territorio in modo omogeneo. Va in questa direzione l'incarico affidato ad una società padovana di consulenza per elaborare un progetto turistico che si articoli su tutto il territorio dei 14 comuni, coinvolgendo i privati e le associazioni. Un progetto pagato da tutti in proporzione alla grandezza del comune. Intanto, per dare un primo segnale di unità e collaborazione, il programma natalizio del territorio viene presentato in piazza Luzzati, a Monta di Rivenza. Il calendario degli eventi non è ancora stato svelato. Rumors o pitergini riferiscono che in centro arriverà un planetario per capire le meraviglie del cielo stellato che nelle fredde serati di dicembre è affascinante da osservare. E poi tanti altri appuntamenti organizzati con l'attenta regia di Forò, l'associazione dei negozianti del centro storico insieme al comune. A Monta nel 2018 il periodo natalizio è stato molto partecipato, molte le persone che giungevano anche da fuori città. Non andiamo lontano, andiamo a Ponte di Piave per parlare invece dell'associazione dell'aeronautica che ha presentato il museo della prima guerra mondiale. Facinelli, già rappresentante dell'associazione aeronautica, ha spiegato da dove arriva questo museo ad Aldo Curtarelli. Siamo in compagnia di Renato Facinelli qui a Ponte di Piave in occasione della ricorrenza dei caduti della prima guerra mondiale e nel contempo all'inaugurazione di un museo di reperti della guerra e lei è qui presente per una motivazione, intanto si presenti e perché è qui. Buongiorno, sono il segretario dell'associazione arma aeronautica sezione di Treviso, nonché consigliere nazionale. Mi trovo qua in questa veste ufficiale perché l'apertura del museo è stata voluta fortemente dal nucleo di Ponte di Piave, sempre dell'associazione arma aeronautica, che col suo caponucleo ha desiderato questa apertura. Diciamo che è un museo non tanto grande ma piccolo, molto significativo e da visitare. Esatto, è un museo che riporta la prima guerra mondiale quando ancora l'aeronautica, proprio come aeronautica, non esisteva ancora, ma esisteva l'aviazione dell'esercito e l'aviazione della marina. Ecco, bisogna dire però che oltre che a Ponte di Piave, sia voi dell'aeronautica ma anche di tutti gli altri corpi, avete realizzato moltissimi musei nei vari paesi del nostro territorio, proprio perché per la ricorrenza e per non dimenticare. Esatto, per non dimenticare, esattamente. Abbiamo vari musei, abbiamo dei musei sia interno nei sedimi aeroportuali che dei musei anche nei vari nuclei che abbiamo all'intorno della provincia di Treviso. Infatti noi abbiamo ben 19 nuclei che insistono sulla provincia di Treviso. Ecco, grazie a lei e speriamo che questo museo venga visto. Spero di sì che sia un museo, anzi è un museo molto interessante, lo dimostra anche il fatto stesso del barcone che vediamo qua, la chiatta che serviva per attraversare il Piave, recuperata con molta fortuna dal Ponte di Piave e quindi un museo da visitare veramente. E adesso gli scatti dal territorio come inizio a Scortegagna, come sempre c'è Foto Reporter. Grazie a Vinicio Scortegagna e a voi tutti i telespedatori per aver scelto la nostra informazione. Vi ricordo che questi servizi e i nostri live li trovate anche sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo, torneremo con le altre news e quindi rimanete con noi. Buon proseguimento con La Rete. Alla prossima.